Ciao a tutti e ben ritrovati. Io sono Criminal Motive e oggi vi porto in un altro viaggio nella mente criminale e stavolta sarà un viaggio molto triste perché è il caso del boia di Albenga, il caso di Luciano Luberti. Luberti nasce il 25 aprile del 1921 a Roma ed è primo di tre figli. È attratto dai fascisti già dagli elementari ma li ritiene dei mollaccioni in realtà dei deboli perché lui riuscirebbe a fare di molto meglio. Riesce a diplomarsi in ragioneria ma l'iscrizione all'università in economia e commercio sarà un buco nell'acqua. La sua carriera come quella di molti altri frustrati sadici di quel periodo inizia come carriera militare. Il terzo reggimento artiglieria celere motorizzata. Il 16 aprile diventa caporale e successivamente sergente. Viene inserito nel corso per allievi ufficiali ma il 16 novembre è trasferito al deposito del terzo reggimento artiglieria celere per completare i suoi obblighi di servizio militare perché è dichiarato non idoneo. Nell'ottobre del 1943 si arruola come volontario della Wehrmacht grazie alla sua capacità di parlare bene il tedesco. La prima missione che fa è in Corsica a rastrellare i partigiani italo-francesi e qui il lavoro lo fa talmente bene da meritarsi la croce di ferro di seconda classe. Viene spedito alla Felgendarmerie di Albenga in Liguria nel dicembre del 1944 circa dove ancora oggi in realtà lo ricordano. Inizialmente aveva il compito di lavorare come traduttore proprio per la sua perfetta conoscenza anche del tedesco ma in poco tempo inizia a lavorare presso il tribunale militare di guerra della 34 Infanterie Division. Grazie a questo incarico prenderà il soprannome con cui oggi lo ricordiamo il boia di Albenga. Perché il boia? Perché in pochissimo tempo fa carriera e diventa un caporal maggiore. La posizione è perfetta specialmente per lui che è un sadico desideroso di esprimere tutta la sua malvagità. E attenzione non sono una persona che tende a parlare di malvagità ma penso che in questo caso io sia pienamente autorizzata a farlo. E adesso capirete per quale motivo io che sono sempre tendente a parlarvi di recupero di coloro che sono stati condannati, di reintegrazione nella società, di lavori socialmente utili, per quale motivo io oggi mi possa rivolgere in questo modo riguardo a una persona. Luberti è purtroppo uno di quei soggetti che riesce a racchiudere all'interno di sé sia una personalità sadica che un fortissimo sadismo sessuale. Un mix di fattori che è letale per le persone che gli stanno intorno. Lui presenta dei tratti molto distintivi di aggressività e di crudeltà ed è affascinato ovviamente dalla violenza, dal potere, dal dominio, da tutti quei fattori che derivano dal dominare e far star male fisicamente o psicologicamente gli altri. Il sadismo sessuale non è molto distante poi da questa personalità sadica ma non è detto che viaggino insieme. Perché? Perché uno può avere dei tratti di personalità sadica ma non essere una personalità pienamente sadica, così come ci possono essere dei tratti di sadismo sessuale che non portano necessariamente ad abusi, violenze o maltrattamenti. Nel suo caso però avevamo il mix di fattori e quelli della peggior specie. Come vi dicevo ad Albenga durante il servizio tortura in tutti i modi possibili immaginabili. La sua attività preferita è soprattutto l'interrogatorio dei sospetti partigiani o di coloro che vengono sospettati di essere complici dei partigiani. Soprattutto lo fa con un mix di violenza fisica, psicologica e di umiliazioni che sono state addirittura considerate inarrivabili persino dai nazisti stessi. Le sue vittime tra il 1944 e il 1945 si stima che siano state circa 200. Lui in realtà parla di 300 vittime. Alla fine però, alla fine della fiera, lui viene condannato ufficialmente per i crimini di guerra per aver contribuito all'uccisione di 59 persone, 59 cadaveri che sono stati ritrovati alla foce del fiume Centa, ma in realtà probabilmente sono molti di più e capirete perché. Chi ricorda le sue opere, diciamo, purtroppo, ricorda di capezzoli tagliati, stupri effettuati con bottigliette o bottiglie infilate a calci negli orifizi e addirittura di muri pieni di schizzi di sangue. Gli ho fatto un buco così, gli ho fatto a Giovanni di Siciliano, ripente disegnando nell'aria un melone, Luciano Luberti. L'ho beccato dopo che aveva fatto fuori col poveretto delle brigate nere, gli ho scaricato in testa dieci bossoli, un buco così gli ho fatto a Giovanni il Siciliano. Questo è il modo in cui lui descrive il reato, l'omicidio commesso nei confronti di Giovanni il Siciliano e questo però lo fa a circa 40 anni e passa di distanza da quei crimini, crimini che lui non ha mai dimenticato, di cui non si è mai pentito, di cui non si è mai risentito. La cosa più sconvolgente, come vi dicevo, è che da queste torture nemmeno, persino i fascisti si allontanavano, non riuscivano a tollerare la vista delle sue azioni. Befel ist Befel, l'ordine è ordine e io, al contrario di Pripke, ho obbedito senza lacrimare, perché per lui è stata una fierezza questa presunta obbedienza senza lacrimare. Ma ci sono delle storie in realtà che riguardano Luciano Luberti che pochi si ricordano, perché Luberti era molto noto sin da quando fece irruzione addirittura in un paesino vicino ad Albenga nella casa della famiglia Simone, perché lì porta via Egildo catturato, torturato e poi fucilato. Egildo fu portato alla solita foce laddove uccise molti altri in realtà e pochi partigiani, ma molti presunti complici dei partigiani vengono ritrovati in realtà in quella foce. Chi lo ha incrociato, il cosiddetto boia di Albenga, perché da lì viene il suo soprannome, dalle azioni che ha effettuato ad Albenga, non li ha mai dimenticati e li ha continuati a narrare quasi come se fosse una favola horror ai figli, ai nipoti, alle generazioni a venire, ma in realtà chi non ha vissuto gli orrori di quella guerra, di quella zona, di quei momenti, potrebbe scambiare il tutto come racconto di fantasia, fantasia che però non è. Abbiamo anche il racconto di altre persone, come ad esempio quello di Enzo Rava. Enzo Rava, insieme ad altri due amici, sono stati portati dall'entroterra di Albenga e arrestati e portati davanti al boia, perché erano ragazzini un po' stupidini, che a volte raccoglievano delle cose ritrovate in zona, soprattutto quello che rimaneva dopo l'abbandono dei terreni da parte dei militari. Nel loro caso avevano raccolto delle bombe a mano, le stavano portando probabilmente a casa quando sono stati catturati e denunciati di complicità verso i partigiani, perché avevano fatto questa cosa di raccogliere gli armamenti. La sentenza arriva subito nei loro confronti da parte del boia. Fucilazione in giorni da effettuare in diversi giorni. Per un puro e semplice caso del destino fortuito, Rava e gli altri amici si salvano, ma così non va per tutti. Infatti il comandante dei partigiani di Albenga invece non si salva. Luberti fa irruzione in casa sua, colpisce la madre di lui così forte da renderla sorda, abusa fisicamente della sorellina di 12 anni, lega ad una moto il padre che porta così fino alla sede della gendarmerie e lì lo torturano. Come capite non era di certo una persona che faceva semplicemente il suo dovere come soldato fascista o soldato nazista. Lui potrebbe aver battuto persino i limiti di quella seconda guerra mondiale che c'è stata. Soprattutto perché prese la fidanzata del comandante dei partigiani e la portò a quella famosa foce del fiume. E anche nei confronti di lei si accanì con torture. Lei fu una di quelle che venne ritrovata con la bottiglia infilata a forza all'interno della vagina. E questo ha contribuito purtroppo al suo decesso. Vi lascio immaginare cos'altro ha effettuato. Per me sono discorsi irripetibili. E voi direte, per fortuna sarà rimasto solo, no? Aveva anche deciso di sposarsi perché nella sua vita non poteva mancare anche l'amore sadico. Un giorno uccide un giovane partigiano e si innamora della figlia, giovanissima, della sorella di questo partigiano e decide di sposarla. E quindi la rapisce e la porta via in nome di un presunto amore. La porta davanti al prete e obbliga il prete con una pistola puntata alla testa a disposarli. Non c'è bisogno di dirvi che con la liberazione questo matrimonio è stato annullato ma vi lascio immaginare cosa questa povera ragazzetta abbia subito nel frattempo. In realtà ci sono anche storie, altre storie poco note, come quella di Umberto. Nel febbraio del 1944 Umberto aveva 26 anni ed era un bellissimo eparagulo romano. Come solo i giovani romani sanno esserlo in realtà. Umberto è il primo di cinque figli di una famiglia ebrea proprietaria di un negozio di abbigliamento in via Alessandria a Roma. Lui e Luberti si conoscono fin da piccoli perché hanno frequentato insieme le elementari. Umberto capisce però che la situazione si sta mettendo male e ha bisogno di fuggire in Svizzera per mettersi in salvo. E allora che cosa fa? Contatta il suo amico Luciano Luberti e gli chiede una mano per scappare. E lui gli dice certo ti aiuterò perché si fida, perché sono amici, abitano nello stesso quartiere, non si sono mai persi di vista e gli dà appuntamento tra Viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Pieno di speranza Umberto va all'appuntamento ma si trova invece davanti degli agenti delle SS che lo arrestano e lo portano via. Lo portano prima in via Tasso e poi lo trasferiscono a Regina Celi dove riesce a scrivere una lettera alla suocera. Lettera che arriva perché la suocera non era ebrea. La cognata corre al carcere ma è già troppo tardi perché lui è già stato trasferito senza soldi con vestiti che aveva indosso al momento dell'arresto e senza nient'altro. Viene trasferito a Fossoli vicino a Carpi in provincia di Modena. Qui è dove la Repubblica di Salò aveva allestito un campo di concentramento improvvisato perché nel frattempo non andavano dimenticati gli obiettivi. Da Fossoli Umberto riesce a scrivere a Roma ad amici e parenti e cerca di rassicurarli sulle sue condizioni ma soprattutto chiede soldi, vestiti e cibo. La famiglia effettivamente cerca di mandare dei soldi, dei vestiti e del cibo ma a lui non arriverà nulla perché il 5 aprile del 1944 parte secondo lui verso una nuova destinazione. Effettivamente sarà una nuova destinazione ma lui non sa che la destinazione è Auschwitz e da lì chi entra non esce. Infatti morirà lì il 28 agosto del 1944 marchiato con il numero 180110. Arriva così il 25 aprile, si pensa che sia ormai la fine, che lui possa essere arrestato, condannato, processato, no niente di tutto ciò perché lui riesce a scappare. Prima scappa a Torino, poi a Napoli e tenta persino di arruolarsi nella legione straniera. Per questo nel 1946 si trova a Genova dove il 17 maggio il fratello di una sua vittima lo identifica da lontano su una banchina al porto e lo fa arrestare. Viene tratto in arresto e viene rinviato a processo perché sospettano che abbia ucciso almeno 200 persone. Lui parla di 300 ma i fatti sono che vengono trovati solo 59 cadaveri alla foce del fiume. Viene condannato, viene condannato alla pena capitale ma la corte d'appello di Genova gli riduce la pena, gliela riduce all'ergastolo. Pena che poi viene ulteriormente ridotta a 19 anni e sei mesi. Alla fine l'amnistia del 1953 gli toglie ulteriori dieci anni dalla pena e lui nel luglio del 1956 esce a piede libero. È un uomo libero il boia di Albenga. Penserete che parliamo di un uomo che viene recuperato, reintegrato nella società ma purtroppo non è così perché la sua carriera nell'estrema destra continua una volta fuori ma è una carriera di estrema destra particolarmente violenta perché le sue violenze non smettono. Inizia a lavorare come editore di libricini di ispirazione nazista e poi come militante del fronte nazionale nell'organizzazione di Valerio Borghese. Per chi non sapessi di chi parliamo Junio Valerio Scipione Ghezzo Marcantonio Maria dei Principi Borghese, noto in realtà come Junio Valerio Borghese, è stato un militare politico nobile italiano. È quello che è passato alla storia per il cosiddetto Golpe Borghese. Il colpo di Stato che doveva esserci nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970. Un colpo di Stato che venne avviato ma interrotto subito sul nascere che venne effettuato con la collaborazione di altri dirigenti del fronte nazionale, di paramilitari appartenenti a formazioni del neofascismo e di numerosi alti ufficiali delle forze armate e funzionari ministeriali. Ma torniamo a noi Eluberti. Se già nel 1970 c'era stato questo golpe, in realtà non c'era stato solo quello a cui lui sicuramente può aver contribuito in qualche modo. Perché poco prima di quel golpe borghese c'era stato un altro evenimento molto brutale. Il 3 aprile del 1970, dopo una segnalazione che arriva alla procura della Repubblica, la polizia sfonda una porta, la porta di un appartamento in via Palla vicini 52 a Roma. Porta che però sembra una discesa verso gli inferi. Perché gli agenti entrano in questa casa trovano una stanza sigillata con dello scotch, stanza dove c'è il corpo senza vita della bellissima Carla Gruber, separata, che si trova sul letto. La donna era una donna che non era una donna qualunque in realtà, era una profuga della Dalmazia che aveva patito la fame, le violenze della guerra e cercava semplicemente di vivere una vita migliore. Era purtroppo malata di tubercolosi, ma era comunque una donna in cerca di attenzione, di amore, di agi e di un benessere, di un benessere economico che non aveva mai avuto. Lei nel 1956, a soli 18 anni, inizia a lavorare alla Publiaci, un'agenzia di pubblicità cattolica. Lì conosce Luberti, colui con cui inizia questa relazione travagliata e violenta che porrà fine alla sua breve vita. Vi faccio notare la parte di agenzia di pubblicità cattolica, perché i cattolici, tutte le organizzazioni cattoliche, hanno sempre avuto un ruolo nel cercare di recuperare, di ridare una possibilità a coloro che sono carcerati. Ed effettivamente è così. Il fatto di avere una credenza in un bene superiore è un fattore protettivo anche rispetto ad ulteriori crimini che possono essere commessi, ma non sempre funziona e non sempre tutti possono essere recuperati. E le valutazioni non possono essere fatte da parte di un prete, perché ovviamente si cerca sempre di pensare che non possa esistere la malvagità dell'essere umano e che possano essere semplicemente degli inciampi. In realtà purtroppo esistono persone che sono semplicemente malvagie e che spesso non possono essere recuperate o soprattutto non devono essere reinserite in società. Tornando a noi, il cadavere della povera Carla è adagiato sul letto in un avanzatissimo stato di decomposizione, indossa un baby doll aperto sul petto ed è circondata da fiori secchi e deodoranti e bottiglie di cloroformio. Probabilmente tutto messo lì per camuffare l'odore della decomposizione, insieme anche al fatto che ha sigillato con lo scotch tutte le aperture della stanza. Ha un foro purtroppo di pistola all'altezza del polmone sinistro, questo però è visibile. Un foro che le ha trapassato il cuore e il polmone sinistro per poi conficcarsi nel letto. Accanto al corpo della donna viene trovato un biglietto. Chiudo la porta il 20 gennaio alle ore 16. Che potevo fare di meglio se non amarti fino alla fine dei tuoi giorni, mia diletta regina? Dammi il tempo di compiere tutto il resto come mi hai ordinato. Di Luberti ovviamente, come potete immaginare, nessuna traccia. Ha abbandonato la sua Fiat di fianco alla stazione Termini e addirittura c'è chi ipotizza che si sia fatto un'operazione di plastica facciale per rendersi un fantasma irriconoscibile. In realtà nel 1972 viene catturato e viene rinviato a processo per l'omicidio di Carla Gruber. Carla Gruber che nei suoi scritti aveva parlato di come lei aveva rinunciato a tutto pur di avere del benessere economico che Luberti le avrebbe potuto dare in cambio però di tanto perché questa scelta le era costata tanto così come le era costata la possibilità di non avere un vero amore perché riguardo alla sua storia con Luberti scrive a un certo punto nel diario eppure fumo orrendamente felici. Il che lascia intendere quanto la loro relazione molto sadica e molto violenta fosse contorta. Sappiamo che lei aveva effettivamente altri due amanti due amanti che a Luberti non andavano bene infatti Luberti cercava continuamente di riconquistare quella che era stata la sua regina non riuscendoci e questo lo portò probabilmente a commettere questo femminicidio anche se va aggiunto un ma e il ma riguarda le coincidenze temporali tra alcuni fatti che sono avvenuti soprattutto tra l'omicidio di Armando Calzolari che era il cassiere del fronte nazionale di Valerio Borghese perché lui era scomparso il 25 dicembre del 1969 ed era stato ritrovato deceduto il 18 gennaio del 1970. Alcuni pensano che Calzolari fosse effettivamente coinvolto nella strage di Piazza Fontana. Le tempistiche e le conoscenze effettivamente ci possono portare tranquillamente a ipotizzare questo così come tutto questo ci può portare a ipotizzare che Carla Gruber possa essere stata uccisa per aver minacciato quel 18 gennaio di parlare proprio dell'omicidio di Calzolari. Per quale motivo? Perché lei non è stata uccisa il 20 di gennaio come dice il bigliettino che ho chiuso alla porta lei sembra sia stata uccisa in realtà il 18 gennaio. Quindi alcuni studiosi specialmente del periodo ipotizzano che in realtà ci fosse un collegamento con la strage di Piazza Fontana e con tutto quello che stava avvenendo in quegli anni con la cosiddetta politica che era in corso in in quegli anni. Sono ipotesi ipotesi che all'epoca non sono state prese in considerazione perché la politica della tensione non era nota, non era noto il il quadro generale della situazione che si stava creando. Oggi in realtà è più nota ma non abbiamo più la possibilità di indagare su quelli che sono stati i casi dell'epoca. Quello che sappiamo è che in questo processo ci sono stati diversi colpi di scena. I periti addirittura non riuscivano a mettersi d'accordo tra di loro su quanti barbiturici lei avesse assunto e in realtà ma venne fuori che non aveva assunto più di due tre pastiglie circa di questo barbiturico per dormire. Così come Luberti inizia a parlare di gesto estremo perché lei sarebbe stata delusa da quella vita e avrebbe deciso di porre fine alla sua vita. Ma anche questa ricostruzione non torna perché nessuno può porre fine alla propria vita con il braccio destro alzato e messo sotto la testa e con la sinistra da non mancino spararsi nel cuore senza però lasciare bruciature di questo sparo sulla pelle. Capite anche voi che questa linea difensiva del gesto estremo e di lui che avrebbe semplicemente mancato di denunciare il corpo non torna e allora a quel punto decide di cambiare tattica. Perché? Perché viene condannato in primo grado a 22 anni e decide per l'appello di fare qualcos'altro, di giocarsi tutto sull'incapacità di intendere e di volere. E chi contatta? Contatta Aldo Semerari. Ma chi è Aldo Semerari? È un uomo entrato in moltissimi misteri italiani dell'epoca sempre legato praticamente all'eversione fascista di estrema destra ma non soltanto perché è stato uno dei più famosi psichiatri e criminologi italiani. Voleva probabilmente provare ciò che stava studiando visto che si era invischiato in molte vicende anche molto oscure tra cui pensate persino con Raffaele Cutolo perché addirittura cercò di fare una perizia per Cutolo cercando di puntare sulla semi-infermità di mente, quindi un vizio parziale di mente. Le perizie di Semerari con queste diagnosi in realtà affioccavano specialmente per coloro che erano appartenenti o simpatizzanti delle versioni nera. Purtroppo per lui viene ritrovato, deceduto, ucciso il primo aprile del 1982 nel bagagliaio di una Fiat 128 parcheggiata a poca distanza dalla casa del braccio destro di Raffaele Cutolo. Probabilmente la perizia non era abbastata per Cutolo in quel caso lì e di Semerari però ve ne parlerò in un'altra puntata magari più approfondita su altre questioni vicende. Torniamo però a Luberti. Come vi dicevo grazie alla perizia di Semerari riesce a ottenere il vizio parziale di mente. Perché poi Semerari parla nella perizia di una paranoia delirante di questo soggetto. Viene quindi deciso l'internamento all'interno dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, ospedale da dove lui evade il 22 agosto del 1980, perché viene considerato così pericoloso che da solo poteva uscire. aveva infatti un permesso premio. Viene però di nuovo arrestato il 17 marzo del 1981 e viene ricondotto in carcere per finire di scontare la pena. Alla fine lui per questo omicidio sconta quattro anni tra l'attesa di giudizio, un anno circa in attesa dell'appello e poco meno di due anni nell'ex ospedale psichiatrico giudiziario. Pochi sanno che lui aveva fatto ricorso all'alta corte europea per i diritti dell'uomo, il che potrebbe sembrare alquanto buffo, ma lui fa ricorso all'alta corte europea per i diritti dell'uomo per i mesi passati all'interno dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario. E oltretutto riesce a vincere questa causa e l'Italia viene costretta al pagamento di un milione di lire di risarcimento nei suoi confronti. Oltretutto non finisce qua perché si trasferisce a Padova dove inizia a frequentare giurisprudenza e incontra il professor Sabino Acquaviva, un sociologo. Sociologo che riesce ad aiutarlo a completare il suo percorso di studi nel 1987 e sempre nell'87 lo porta negli studi Rai per un'intervista. Intervista in cui Luciano Loberti racconta senza remore, senza sensi di colpa, senza assolutamente nessun segno di espressione umana, il perché lui sia diventato il boia di Albenga. Lui racconta senza alcun contesto storico e sociale quelle che sono state le torture da lui effettuate durante il suo bellissimo percorso militare. Luciano Loberti dopo questa puntata viene molto contestato, riesce ad avere nuovamente problemi con la giustizia per il possesso di alcune sostanze stupefacenti e alla fine morirà all'età di 81 anni il 10 dicembre del 2002 in una casa di riposo. Nonostante muoia a 81 anni in una casa di riposo, anche questa diciamo di stampo cattolico, lui non si pentirà mai delle sue azioni, non avrà mai dei sensi di colpa, non si sentirà mai in colpa nemmeno per la morte di Carla Gruber, di quella che lui ha considerato la sua compagna amata e ovviamente lui non si è mai pentito nemmeno delle azioni commesse durante la seconda guerra mondiale nei confronti di ebrei e non soltanto. Spero sinceramente di avervi fatto riflettere su quanto una persona possa essere recuperata e quanto una persona in realtà non possa essere recuperata e spero di avervi fatti riflettere anche su quanto certe volte alcune personalità tendono a svilupparsi in maniera molto più sadica a seconda dell'ambiente in cui si trovano, perché sono sicura che se Luciano Luberti non avesse avuto sulla sua strada la possibilità di incorrere in questa violenza di stato garantita, autorizzata e anzi fomentata, probabilmente avrebbe effettuato un percorso molto diverso di vita, cosa che non è stata finora così. Spero di avervi fatti riflettere con questo viaggio in questa mente criminale, vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!